La polizia di Stato ha arrestato due trentenni e sequestrato 10 kg di hashish lungo il tratto aretino dell'autostrada del Sole. L'intervento venerdì scorso, poco prima della mezzanotte, una pattuglia della polizia stradale della sottosezione di Arezzo Battifolle ha fermato una Opel Corsa con a bordo due trentenni, originari del Marocco, residenti in Emilia-Romagna. I poliziotti si sono subito accorti dell'odore acre che proveniva dall'auto. La perquisizione veicolare ha permesso di recuperare, nascosta sotto i sedili, una borsa in tela contenente 10 confezioni, ognuna composta da 10 panetti del peso di 100 grammi ciascuno per un totale di 10 kg di hashish. Ogni panetto aveva impressa l'immagine di una testa di leone sormontata da una corona per rendere riconoscibile e sostengono gli inquirenti la droga sul mercato degli stupefacenti. L'intero quantitativo avrebbe avuto un valore di circa 10.000 euro una volta immesso sul mercato.